Fevifrutta, in grosso ortofrutticolo. La Fevifrutta SRL è rinomata sul mercato per la vendita delle primizie di Basilicata, fragole candonga, pesche, albicocche e pesche noci, prodotte sia nella propria azienda sia conferite da validi agricoltori del luogo. Fevifrutta. I cicli di lavorazione dei prodotti offerti da Fevifrutta avvengono contestualmente al momento della raccolta. In questo modo i frutti della terra entrano nel magazzino già lavorati e pronti per la vendita. Fevifrutta. I nostri clienti appartengono al mercato locale, nazionale, estero e grande distribuzione. Fevifrutta.it, via Bellini 10, Policoro, Matera. Fevifrutta, in grosso ortofrutticolo. State insieme? No, ce la cano! Fevifrutta, in grosso ortofrutticolo.